Disposta la perizia psichiatrica su Bilal Miha, il 39enne originario del Bangladesh che lo scorso 21 aprile all'interno di una manzarda di via Togliatti a Levane aveva ucciso la sua bimba di appena 3 anni e mezzo ed ha aggredito il figlio maggiore 12enne. Spetterà adesso al dottor Massimo Marchi stabilire se al momento del delitto l'uomo fosse in grado di intendere volere. L'esperto nominato dal GIP del Tribunale di Arezzo Fabio Lombardo dovrà poi stabilire anche se l'uomo sia nelle condizioni di prendere parte al processo a suo carico in maniera cosciente. Il giudice ha poi indicato anche un consulente che si occuperà di procedere con le valutazioni psicologiche sul figlio maggiore del 39enne. Il ragazzino quella tremenda mattina dopo aver tentato di difendere la sorellina era riuscito a salvarsi dalla furia cieca del padre fuggendo in casa dei vicini. Il PM Laura Taddei aveva chiesto di poterlo ascoltare in incidente probatorio. Il 39enne dopo il delitto aveva tentato il suicidio gettandosi in un pozzo, era stato poi recuperato dai vigili del fuoco dopo un laborioso intervento. Restano ancora del tutto scure le cause del delitto sconvolgente. L'uomo all'epoca dei fatti era in cassa integrazione. Alcuni giorni prima dell'orribile omicidio avrebbe lamentato malessere e forti emicranie. Subito dopo l'arresto era stato ricoverato nel reparto psichiatrico di una struttura ospedaliera fiorentina e stato poi dimesso attualmente e detenuto all'interno del carcere di Sollicciano.